Poi, ragazzi, non so se ne sono fatti in una città, non so se ne sono fatti in una città, ma non so se ne sono fatti in un'unica in un'altra città. Ma Radusa come siete formati? No, perché la città è un'altra città, perché ci sono tante cose che devono arrivare e si destino? Ora però, grazie a Dio, piano piano cerchiamo di mettere una cosa per conoscere un'altra storia. Io anche no, perché io sono a Catania, io sono europeo, e io devo mantenere il paese, almeno Catania, Catania è Catania, Catania non ci interessa da interessi, non ci interessa se tu... Catania ci potessi pensare che c'è un travaglio, una lira per tutti, ma stop, ma altre cose... Ma i Catanissi proprio dicono che l'indina è Catania, l'indina è Catania, che è il gastro che c'è su Catanissi, no? Allora, chi sanno determinate cose che a me me le hanno spiegate, quanto è stato, io le so, però c'è magari quella che ne sapete, che viene, che è convinto che Catania, che è così quasi, è come Catania. No, il fatto che stiamo facendo, stiamo volendo, noi, per farci vedere la conoscenza e per te di cercare questa situazione, perché è una situazione che sta fermando, perché se non va... perché io non ho ne scelto male, io non lo posso ammanacare in una macchina, allora, noi non abbiamo mai potuto mai fare qualcosa di una macchina. La cosa si è scelta, io ho un problema, ho fatto l'opo, io ho fatto l'opo, io ho fatto l'opo, io ho fatto l'opo, io ho fatto l'opo. No, no, ma se non fanno l'opo, non fanno l'opo. Non fanno l'opo, non fanno l'opo, non fanno l'opo. Ora, questo è un problema che, in prima città, è un problema, è un problema, la nostra storia ci vuole, che noi abbiamo un problema dentro, noi stessi, noi stessi, abbiamo bisogno. Ora, questo è un problema, io ho fatto l'opo, io ho fatto l'opo, io ho fatto l'opo. Mo tę l'opo, a rispita l'opo, io ho fatto l'opo. Lo ainetto e a lui, io givesど la dire non mi ha detto, ma non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto in merito. Mi ha detto è non scelto poveste pot IQ. Mi ha detto anche il mio pazzo. Il pizzo questo alico, noi ho fanno chiorre iCI ! Il pizzo, usingi che a chiergere da dove, Grazie a tutti. Grazie a tutti.